Organizzatori al lavoro per l'edizione 2023 del Rally della Valle in Telvi. Dopo un lungo stop, la gara è stata di nuovo riproposta lo scorso anno, con un finale sorprendente, con due piloti a pari merito sul podio, lo svizzero Gregoire Hotz e il comasco Alessandro Re. La vittoria è andata a rosso crociato per la discriminante, il tempo migliore nella prima prova speciale. Ma ora è tempo di pensare al prossimo evento. La data fissata è quella del 13 e 14 maggio, che potrebbe però essere ritoccata per la contemporaneità con le elezioni amministrative in due paesi toccati dalla manifestazione motoristica. Filippo Prestinari, siete già al lavoro per l'edizione 2023 del Rally della Valle in Telvi? Sì, diciamo che non ci siamo mai fermati perché appena finita l'edizione 2022 abbiamo cominciato a lavorare per quella del 2023 perché le cose da fare ce ne sono sempre molte, quindi l'idea nostra è di far sempre qualcosa di innovativo, di nuovo, quindi il lavoro diventa ancora maggiore. La gara come sarà? Ovviamente non possiamo anticipare molto, ma un quadro generale si può fare. La gara andrà sicuramente a toccare tutti i comuni della Valle in Telvi, che sono 11 comuni. Le prove, ci sono delle prove con dei tratti classici, prove inedite, passaggi che non sono mai stati fatti negli anni passati, neanche nel vecchio trofeo Villa d'Este, quindi penso che per i piloti trovare qualcosa di nuovo tutti gli anni sia positivo. Come organizzatori tenete molto anche alla valorizzazione del territorio, non solo un discorso automobilistico? No, diciamo che il rally è nato dalla passione mia e degli altri miei collaboratori, però è nato anche per promuovere il territorio della Valle in Telvi, le attività commerciali, il turismo e tutto quello che ne consegue.